Che cos'è un ematoma retroperitoneale? Un ematoma retroperitoneale è una sacca di sangue che si trova nella parte bassa della schiena in un'area nota come spazio retroperitoneale. Un ematoma si forma quando il sangue si raccoglie in un luogo chiuso, come i tessuti molli trovati tra gli organi e le loro membrane di supporto. La cavità peritoneale è lo spazio che si forma tra due tipi di membrane che circondano gli organi dell'addome e del bacino. La cavità retroperitoneale è l'area che si trova dietro il peritoneo. Gli organi dello spazio retroperitoneale includono quelli che si trovano nella parte bassa della schiena che non sono supportati dal rivestimento peritoneale. Questi includono il pancreas, i reni e le ghiandole sorrenali e il duodeno dell'intestino tenue. L'area comprende anche navi, come la orta e la vena cava inferiore. Un ematoma retroperitoneale è più comunemente causato da un impatto traumatico al corpo o da una lesione causata da un oggetto che penetra nelle cavità addominali o pelviche. Il sanguinamento interno che si verifica con questi tipi di lesioni si raccoglie per formare un ematoma. I grandi vasi della vena cava e della orta, così come i vasi che supportano gli organi retroperitoneali, possono essere feriti per causare l'emorragia iniziale. L'ematoma retroperitoneale può anche verificarsi durante una procedura di cateterizzazione cardiaca. Durante la procedura, un catetere viene introdotto in una grande nave per ridurre il blocco. Alcuni medici somministrano farmaci anticoagulanti dopo la procedura per evitare il rischio di coaguli di sangue. Se il catetere fora una grande nave durante la cateterizzazione, sanguinerà e può causare un ematoma retroperitoneale. Se il paziente ha avuto farmaci per ridurre i coaguli di sangue, il sanguinamento può essere difficile da fermare. La chirurgia per rimuovere l'ematoma mette il paziente a rischio di emorragia, e lui o lei può perdere una grande quantità di sangue, a seconda delle dimensioni dell'ematoma. Molte persone con un ematoma spesso hanno anche altre lesioni agli organi addominali e pelvici. Trattare un ematoma retroperitoneale attraverso la chirurgia comporta l'evacuazione del sangue raccolto e l'arresto della causa di sanguinamento. Gli ematomi retroperitoneali possono crescere in modo significativo da ridurre il flusso di sangue al resto del corpo, perché il sangue si sta raccogliendo nello spazio peritoneale. Grandi ematomi retroperitoneali possono anche impedire il lavoro di altri organi. Ad esempio, un ematoma può crescere abbastanza grande da bloccare gli ureteri, che si trovano nella porzione retroperitoneale del bacino. Questo può causare il ritorno di urina nei reni, con conseguente idronefrosi e interruzione della capacità del corpo di filtrare sottoprodotti ed elettroliti.